E' stata indetta una procedura d'evidenza pubblica per l'assegnazione in regime di locazione di alcuni immobili di proprietà comunale da destinare ad uso commerciale, artigianale e espositivo in Corso Umberto. Un altro avviso era stato pubblicato nei mesi passati in cui erano inseriti anche altri locali che sarebbero stati poi assegnati. Sette invece lotti attualmente inseriti nell'attuale documento pubblicato sul sito del Comune Nisseno che potranno essere visionati dagli interessati per un sopralluogo in presenza del personale incaricato e prendendo appuntamento con l'Ufficio Patrimonio. Le istanze potranno essere presentate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano presso l'Ufficio Tecnico Via Duca degli Abruzzi, Scalinata San Francesco, entro e non oltre le ore 12 del 21 aprile 2022. Farà fede la data di protocollo o il timbro postale. Per ogni lotto si dovrà presentare un'istanza. Alla gara potranno partecipare persone fisiche maggioregne alla data della pubblicazione del presente avviso, si legge, e persone giuridiche, purché le une e le altre non si trovino in situazioni che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. I locali saranno assegnati all'offerta tecnica economica che ha ottenuto i migliori punteggi, sommando quelli dell'offerta economica per un massimo di 30 punti e dell'offerta qualitativa fino a 70, per un totale massimo di 100 punti. Per l'offerta qualitativa si valutano il tipo di attività, la presenza femminile, l'età e il contributo alle politiche promozionali. Il locale sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, si precisa, restando a carico dell'aggiudicatario le opere di manutenzione ordinaria, la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative e o di pubblica sicurezza occorrenti all'uso, senza che l'aggiudicazione costituisca impegno e rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri enti pubblici. Sarà poi un'apposita commissione di gara tramite procedura di evidenza pubblica ad effettuare l'assegnazione. Infine l'aggiudicatario sarà invitato a stipulare con il Comune Nisseno il contratto di locazione.